Non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino e se siete soli in casa lasciate accesa una luce o la radio. Sono solamente alcuni dei numerosi accorgimenti contenuti nel piccolo Vademecum per la sicurezza dei cittadini, nato dalla collaborazione tra la Camera di Commercio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo e la Prefettura. Sono dei consigli pratici, utili soprattutto alle persone che sono anziane, fasce deboli, ai quali va spiegato come possono cercare di difendersi dai furti, soprattutto dalle rapine o dalle truffe. Il furto è il reato più odioso perché mina veramente la privacy del cittadino, lo rende sicuramente debole e fa sì che non abbia fiducia o perda quella fiducia nelle istituzioni. 30.000 brochure che saranno distribuite su tutto il territorio provinciale e che saranno accompagnate da un ciclo di incontri informativi in cui i militari dell'arma, anche con consigli pratici, spiegheranno ai cittadini come difendersi nel migliore dei modi. Protezione della casa, attenzione alle truffe, ma anche lotta alla contraffazione per la sicurezza del consumatore. Si parte sempre da un presupposto che un sano sviluppo economico non può avvenire che all'interno di un sano tessuto sociale e quindi la cultura della legalità è assolutamente importante per le imprese, per i cittadini e per la nostra provincia e per l'Italia intera. E quindi appunto è con piacere che abbiamo partecipato e contribuito a fare queste 30.000 brochure all'interno delle quali ci sono tutta una serie di consigli che talvolta sembrano scontati ma di fatto non lo sono e quindi è assolutamente importante divulgare e promuovere questo tipo di iniziativa.